Le vie del cinema, Narni Scalo dall'11 al 16 luglio, siamo arrivati alla 22esima edizione, sono tante ormai, siamo ampiamente maggiorenni e anche questo 2016, come già il 2015, è un anno di compleanni e di anniversari e noi festeggeremo i centenari di due dei giganti della commedia italiana, Dino Risi e Luigi Comencini, a cui a suo tempo Narni aveva già intitolato delle vie e delle piazze, festeggeremo i 50 anni dell'armata Brancaleone di Mario Monicelli, Monicelli il centenario, giocando d'anticipo, l'aveva già celebrato nel 2015, renderemo naturalmente omaggio a Ettore Scola, un altro amico delle vie del cinema che è stato più volte a trovarci riproponendo la terrazza, film di fortissima attualità, parla della crisi della sinistra, non so se è un argomento che vi dice qualche cosa e poi ci sarà l'apertura con il cartone animato di Ayao Miyazaki, il secondo schermo con i film restaurati della Walt Disney per i bambini, quindi sempre di più le vie del cinema di Narni è un appuntamento per tutta la famiglia, per vedere film, per ridere, per discutere, per mangiare, per passare una bella serata al parco, quindi dall'11 al 16 luglio vi aspettiamo numerosi.